Grazie. Sono le 8, 7.15 e le 8.15. Ah, ecco l'arrivo. Allora, siamo pronti e possiamo iniziare. Non so se deve andare la sigla. No, non c'è? Perfetto, là possiamo iniziare, quindi scusate per il ritardo, proveremo a recuperare stata facendo. Allora, l'incontro di questa sera ha, diciamo, come un po' tutti quelli della manifestazione, devo dire, sono tutti abbastanza impegnativi. Quello di questa sera però, che stiamo per iniziare, è un impegno di medio e lungo termine, diciamo così, il futuro sostenibile, è declinato però non in senso, diciamo, molto generalista, ma attraverso, proveremo a parlarne, attraverso l'uso di alcune risorse. Aria, acqua, terra, abbiamo scritto non sono risorse illimitate, si può migliorare tutto, quindi è un tema molto complesso, che ovviamente in un'ora non riusciremo a declinare e a delimitare, ma proveremo però, per la diversità che abbiamo delle persone che, con me, sono qui sul palco, proveremo a delineare alcuni aspetti e a circoscriverli. Intanto vi presento le persone con le quali ci intratterremo. A partire dalla mia destra, Marco Panara, è un giornalista, è stato caporedattore a diretto Affari e Finanza di Repubblica, è stato a lungo inviato in Giappone, in Oriente, si è occupato prevalentemente di questioni finanziarie, ma complessivamente è un attento osservatore delle cose del mondo, diciamo così, e ha scritto un libro molto bello, di quello parleremo perché attiene molto alle questioni di cui parleremo questa sera, che parla, si concentra prevalentemente sulle risorse alimentari. Alla mia destra, invece, abbiamo Jan Lundqvist, che ha scritto questo libro, La tempesta perfetta, acqua, cibo e 8 miliardi di consumatori, grazie, viene dalla Svezia. Alla mia sinistra, Francesca Portincasa, che scusate il bisticcio di parola, gioca in casa perché è direttore generale dell'Acquedotto Pugliese, e alla sinistra Enzo Lavarra, già europarlamentare, ha fatto parte del board di Federparchi Internazionale ed è stato anche, credo, presidente di Federparchi Puglia. Quindi, diciamo, su queste questioni ha costruito parecchie delle sue conoscenze di questi ultimi anni. Io inizierei questa nostra breve chiacchierata proprio con il nostro ospite svedese Jan Lundqvist, perché, dicevo, ha scritto questo libro che è molto interessante, di cui vi consiglio davvero la lettura, perché sostanzialmente lui in questo libro crea un nesso tra acqua, cibo e sicurezza alimentare. Ma, fondamentalmente, però, fonde queste dinamiche, questa relazione tra acqua, cibo e persone andando a ragionare su un tema del quale noi ragioniamo molto e abbiamo ragionato anche in questo festival, cioè quello della cittadinanza attiva, cioè del fatto che l'uso di queste risorse, lo sperpero di queste risorse dipende sicuramente dall'amministrazione pubblica, dalle istituzioni. Ma abbiamo avuto modo di vedere che le istituzioni da sole non sono in grado di risolvere i problemi. C'è sempre la necessità della compresenza, diciamo, dei cittadini. Allora, Ian, ti volevo dare la possibilità di spiegarci questo nesso, appunto, tra acqua, cibo e sicurezza alimentare. Non prima, però, di leggere a chi ci ascolta e a te stesso, tu scrivi a pagina 37. Alla base del libro c'è un commento del professor Michael Chadwick, che dice Il problema dell'acqua non è nell'acqua, ma altrove. E quindi questo, diciamo, è abbastanza interessante, perché, diciamo, nel libro tu in tanti capitoli poni l'accento sul perché l'acqua è un problema, e però inizi in qualche modo, concludi il primo capitolo dicendo che il problema dell'acqua non è dell'acqua. E allora dov'è il problema dell'acqua? Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille per l'invitation. il mio amico di prima, Marco Panara abbiamo metto un po' di volte Filippo Gianussi non è sicuro che è qui e anche Chiara Pagnozzi e oggi ho metto anche Oskar Bonamare che significa un buon finito ma è un buon finito anche no, Goden Goden, ma è un buon finito quindi grazie molto e ho provato a cercare alcuni dei messaggi in il libro e il libro è non so se avete visto ma il libro è è pubblicato in March questo anno in Padua and it was translated and published by my good friend Antonio Macconi who is organising a lot of meetings in Northern Italy in Padua in Trieste we'll go to Trieste in a few days and also in Parma and different places so it's fantastico but it's also I must say I wrote the manuscript in English so I've not been able to read the book in Italian but he's done a very good job now what I'm trying the global planet it covered it covered about 70% of water the human body is about 60% water our brain is about 85% water and it's also and it's also I think not so many people are aware of the fact that water is the main component of our food both in terms of the requirement of water for production as well as the amount of water contained in the food so I'm writing in the book that a cucumber the green cucumber it contains relatively more water as compared to the Mediterranean I don't know if you didn't know that but but the water content of a cucumber is about 97% so it's more water than a cucumber than in the Mediterranean relatively speaking so that's the same with all all our food it is a very water food production is very very water intensive so of the water that we are using in society in industry for agriculture and households about I I'll take this because I hear myself in this it's annoying because it's better to speak like this so to the the water use in society about 70% of the water that we use in industry households for agriculture for irrigation about 70% goes to agriculture for our food now we can see also that with increasing population and the population in the world is rapidly increasing the demand for more food is obvious and I have one comment about the population increase in the world by telling a story about the we my wife and I my wife Anna who sits here we went to Tanzania in 1970 and at that time the population in Tanzania was about 12 million people do you know how many people there are today? about 65 million the capital Dar Salaam had about 320,000 inhabitants so it was a small town and today the population of Dar Salaam is about 6 million but at the same time the amount of water in Tanzania is the same as it used to be the water in the world is the same now as it was 100 years ago 200 years ago whatever period you want to compare with so while the population is increasing very rapidly the amount of water is like this in principle because what we see now is happening and that is I think that we see you see it here in Italy very much we see it to some extent in Sweden is that the climate is making the water much much more risky much more uncertain you see now the storm buries coming from the central European area from Poland from Czech Republic from Austria and coming down to northern part of Italy I was in contact with my colleague Alessandro Bratti who is the secretary general of the poor authority yesterday and they said they have huge problem now with floods they had it also last year and they've had they've also had droughts in Emilia Romagna and I was speaking to a journalist in Treviso a couple of days ago she said that in in the Prosecco district they had experienced up to 400 landslides during the last couple of weeks as a result of the heavy rainfall so what we see now is happening is that we have a much more uncertain rainfall we have periods of droughts and we have periods of floods and if you have the floods you also have the landslides usually coming a little bit afterwards and we have seen that in Sweden I'm also writing in one of the chapters that in Sweden in 2018 we had about three weeks of tropical nights the temperature never went below the 20 degrees centigrade and that we can have occasional nights like that in Sweden in normal years but in 2018 we had over 20 nights where the temperature didn't go below 20 and then at the same time we didn't have any rainfall you can see the combination of high temperature no rainfall means that the landscape is drying up there was no eventually there was no fodder for the animal so in Sweden very strangely enough we had long queues to slaughter houses because the farmers were not able to give feed to the cows now this is what we call the new normal and we experience it in Sweden you do experience it in Italy primarily maybe in the northern part but I also hear from Marco that you have similar type of problems here in Apulia or Puglia I say Puglia and then you can imagine this is what's happening in our part of the world if we go outside if we go to Africa if we go to the Middle East if you go to Asian countries they have on top of the climate change they also have the population increase so when I grew up in the 1950s 1960s the world population was about 3 million sorry 3 billion today we are little over 8 billion people and we have the same amount of water but we have the water in much more uncertain type of pattern now the that is one of the things that I'm discussing in the book that we have this increasing imbalance between the population the demographic situation and the water availability but on top of that we also have a what I think is a huge problem in the world that we have a growing losses and waste of food and I'm saying that all the food that we are producing will require water will require land will require energy and it has a lot of implication in terms of greenhouse gas emissions so but the fact that we are according to the official figures about 40% of the food that is produced is either lost due to technical problem transport and storage or it's wasted that means that we are throwing away the food this is the global figure it varies between countries I would guess probably it's less you have a very high or very important food culture in Italy so it might not be I don't know the figures for Italy but the global figures are quite serious and then we have another problem in the world today which is growing rapidly and that is overeating so if we combine the losses of food the waste of food that we throw food away and that we eat too much I'm unfortunately one of those who eat too much but I prepare my food myself so that is to some extent an excuse but the combination of losses of food waste of food and overeating means that more than half of the food that is produced is lost wasted and that means also that we have lost the water the energy the land that went into the production of the food so I think we are in a situation of a very serious kind of misuse of both land and water I have two slides I will show you here this is about the what I have just talked about the what we call the new normal of climate climate change there's a picture to the left the red small house do you know from where that picture comes it's from Sweden actually and then the three pictures to the right that's from Dubai last year or earlier this year perhaps it was earlier this year they had a huge event of heavy rainfall which they have not had ever before so we see these kind of events both in countries like Sweden in different parts of Europe now you see it in northern Italy and we have seen it in central Europe as well now the other part of the problem as I see it is that we have a change in society in terms of how we perceive food how we value food when I grew up in the 50s and the 60s we used to say a prayer before we were sitting down for the meal and it was a sin to throw away the food now food has become a kind of a commodity and I think Marco can talk more about our new food habits in terms of hamburgers and different types of fast food so these kind of changes both in the natural environment in the climate and in the water situation as well as our food habits is having a huge problem in terms of how to cope with the situation so I think I would like to end by saying that I think we how do we deal with these problems I think we have to have a combination of technical problems in terms of building different types of technical structures of reservoirs of canals and all those kind of things but we also have to look more into the consumers how they what type of food habits are developing and how can we reduce the losses and the waste of food because if we produce more but if we lose or waste a lot of the food that we are producing it will be very difficult to solve the problem of food security so I think I stop there thank you very much grazie 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 a Jan ha fatto diciamo una disamina non molto allegra per dire la verità per dirla tutta però molto realistica e alla fine diciamo della della sua del suo primo intervento ci ha detto appunto che ha fatto riferimento alla percezione che abbiamo del cibo e allora per continuare a descrivere questo scenario che per il momento è stato descritto attraverso l'utilizzo di una risorsa determinante come quella dell'acqua e Anna appunto ci ha detto a fronte di una serie di cambiamenti l'acqua rimane sempre la stessa e quindi evidentemente c'è un problema vi dicevo prima Marco Panara ha scritto un libro molto bello che si intitola La rivoluzione dell'hamburger dalla carne al vegetare il caso Chione credo si dica Chione che si dica che è una storia molto affascinante che ha a che fare con le stesse questioni Marco Panara in questo libro si pone racconta prima la dinamica di questo hamburger vegetale in tutta la seconda parte però ci spiega perché il cambio di abitudini alimentari e il cambio di paradigma che ha adottato questa azienda ha a che fare direttamente con il cambiamento climatico che è il nostro modo di stare sulla terra quindi chiederei anche a Marco uno sforzo di sintesi per intromettere e mettere nella nostra discussione un'altra questione e poi dopo con il direttore generale dell'Acquedotto Pugliese e con Enzo Lavarra proveremo a capire da un punto di vista istituzionale queste questioni come possono essere tradotte grazie Oscar grazie a tutti voi per essere qui quello che ha detto poco fa Ian e cioè che noi sprechiamo molto cibo e indirettamente sprechiamo molte risorse mi consente di cominciare questa mia bella esposizione con un concetto che secondo me è storicamente importante nella storia dell'uomo da sempre il problema principale è stata la quantità di cibo a disposizione cioè fino a due tre generazioni fa la come dire battaglia per la sopravvivenza era il centro della vita di larghissima parte dell'umanità noi viviamo in un'epoca fortunata nella quale il problema non è più la quantità di cibo a disposizione ma da un lato la sostenibilità ambientale del modo in cui lo produciamo e dall'altro la sostenibilità sociale del modo in cui lo distribuiamo perché diciamo in teoria ci sarebbe cibo io chiamo questo un miracolo sghembo poi entrerò un po' più in dettaglio in teoria ci sarebbe cibo abbastanza per tutti però abbiamo più di un miliardo di persone che soffre la fame e due miliardi e mezzo su otto che hanno vivono in una situazione di precarietà o di incertezza alimentare e questo non dipende non dipende prevalentemente come era in passato dalla quantità di cibo che produciamo ma dal modo in cui lo distribuiamo cominciamo però dalla prima parte la sostenibilità ambientale del modo in cui lo produciamo ora quelli un po' più grandini di noi si ricorderanno che fino agli anni 60 anche all'inizio degli anni 70 alcuni cibi erano preziosi cioè il prosciutto non si mangiava tutti i giorni la carne non si mangiava tutti i giorni il salmone per dire era una cosa che si mangiava la vigilia di Natale chi se lo poteva permettere andando più indietro nel tempo il 99,9% della popolazione mondiale dalla rivoluzione agricola 12.000 anni fa in poi è vissuta in larghissima prevalenza di proteine vegetali cioè mangiavano la polenta il riso il pane e un po' di proteine vegetali diciamo di cibi con maggiore proteine vegetali che erano essenzialmente i legumi ma i contadini il 99% della popolazione mondiale fino all'inizio del 1900 era contadina e gli animali non venivano mangiati perché gli animali competevano con gli uomini per il cibo poi parleremo un attimo di questo e servivano per lavorare e quindi gli animali venivano mangiati più o meno a fine carriera tranne i ricchi i proprietari dei terreni i quali avevano ai quali i contadini portavano i formaggi gli agnelli eccetera ma la larghissima parte della popolazione la carne le vedeva una volta due volte cinque volte l'anno poteva integrare con qualche uovo con qualche pesce se stava vicino alla costa poi è cambiato tutto noi viviamo in un'epoca fortunata in cui appunto la produzione di cibo quantitativamente non è più un problema infatti siamo passati come diceva Ian in 60 anni da 3 miliardi a 8 miliardi e tutto sommato c'è abbastanza cibo per tutti non c'è non solo c'è abbastanza cibo per tutti ma questo cibo è abbastanza a basso costo perché cos'è successo? il miracolo sghembo è che noi siamo riusciti a industrializzare la produzione del cibo ma in particolare siamo riusciti a industrializzare la produzione delle proteine animali che sono molto importanti perché sono molto importanti perché oggi il nostro modello alimentare è basato prevalentemente sul consumo di proteine animali noi diciamo ci cibiamo in larga prevalenza di proteine animali le proteine vegetali sono una quota limitata e residuale del monte proteine del quale noi abbiamo bisogno bene questa diciamo iperconsumo di proteine animali che vuol dire carne e derivati uova latte latticini pesce eccetera eccetera ha un costo ambientale gigantesco oggi la produzione agricola complessiva parliamo di emissione di CO2 e gas climalteranti pesa sul totale delle emissioni per circa il 23 il 24 per cento del totale all'interno di questa famiglia diciamo delle produzioni agricole gli allevamenti cioè la produzione di proteine vegetali di animali è responsabile del 14 per cento di emissioni è una cifra gigantesca se ci pensiamo perché se mettiamo insieme tutti i mezzi di trasporto auto camion treni aeree i navi il totale delle emissioni è inferiore a quel 14 per cento e giustamente noi siamo diventati sensibili voi sentite si parla di auto elettrica di tutte queste cose qua ma non siamo per niente sensibili al fatto che quello che mangiamo è determinante da un punto di vista della sostenibilità e del cambiamento climatico il motivo per il quale ho scritto questo libro è questo cioè che io per primo non avevo nessuna consapevolezza mentre diciamo ritengo di essere ma credo che molti di noi lo siamo abbastanza consapevoli del fatto che se accendiamo l'aria condizionata o usiamo la macchina per fare un viaggio abbiamo un certo impatto sul clima non siamo affatto consapevoli dell'impatto sul clima che abbiamo comprando una bistecca invece che un legume o un'altra cosa e questo mi ha molto incuriosito e ho fatto delle scoperte terrificanti oggi noi in questo momento oggi è 23 il 23 settembre del 2024 nel mondo noi stiamo arrivando 92 miliardi di animali e oggi come domani come ieri macelliamo 500 milioni di animali al giorno benissimo questi animali vanno nutriti e quindi larga parte dei terreni arabili sono utilizzati per produrre cibo per animali naturalmente questo comporta irrigazione comporta l'uso di fertilizzanti pesticidi erbicidi fitofarmaci che hanno effetti molto rilevanti sull'ambiente perché il ciclo dell'azoto e del fosforo per esempio che sono due minerali fondamentali nell'ecosistema globale sono molto influenzati dall'uso dei fertilizzanti dall'iperuso dei fertilizzanti e guardate caso questi fertilizzanti vengono usati soprattutto diciamo i maggiori utilizzatori di questi fertilizzanti sono il Brasile gli Stati Uniti e la Cina che sono i paesi dove la produzione di cibo per animali è più rilevante erosione delle foreste inquinamento delle acque insomma l'impatto è rilevantissimo oggi la situazione è questa e il pianeta ne soffre molto ma purtroppo non ci fermiamo qui perché noi tra 30 anni da 8 miliardi saremo 10 miliardi e siccome quindi aumentiamo del 25% la popolazione il consumo di proteine animali però non va non cresce in proporzione all'aumento della popolazione ma cresce molto di più cioè in una proporzione doppia e per certe volte quasi tripla perché la carne è cosiddetto cibo aspirazionale nel senso che essendo stata per secoli per millenni un cibo per i ricchi al momento in cui uno comincia ad avere un minimo di affluenza si può permettere qualche cosa prima di comprare la Mercedes sicuramente comincerà a comprarci una bistecca quindi l'aumento del consumo di proteine animali cresce non solo con la popolazione ma grazie a Dio questo accade con l'aumento del benessere della popolazione per cui le proiezioni sono di un aumento di qui a 20 anni di 2 miliardi di persone cioè del 25% di persone ma del 50-60% del consumo di domanda diciamo di proteine animali bene adesso alleviamo 92 miliardi di animali più 50% vuol dire 140 miliardi 140 miliardi di animali da nutrire temo che non ci sia lo spazio per farlo cioè il pianeta non se lo può permettere per questo diciamo il ragionamento che faccio in questo libro è che io non sono né vegetariano né vegano né auspico o mi aspetto un mondo di vegetariani e di vegani mi aspetto un mondo di cittadini di consumatori di persone più consapevoli che diciamo riequilibrino la loro dieta pensate una cosa noi a Puglia fave cicorie per esempio che è un piatto perfetto da un punto di vista della non solo della sua bontà ma anche della completezza degli elementi fondamentali quindi proteine carboidrati fibre è un piatto perfetto risi e bisi in Veneto pasta e fagioli piatto magnifico bene in Europa per esempio il consumo dei legumi è disceso drasticamente perché perché i legumi sono fuori moda io non onestamente è rarissimo a me ma immagino che uno va al ristorante e prende la pasta e fagioli è difficilissimo che ti invitino a cena e il piatto sia una pasta e fagioli o una pasta e piselli o una pasta e ceci tutti i piatti immagino che molti di voi li apprezzino quindi c'è un problema culturale aggiungo e poi mi fermo poi voglio fare io una domanda a Jan quando passiamo al secondo giro fate quello che voglio io sono democratico fate quello che volete basta che non abusate di me c'è un problema connesso alla salute ci sono delle correlazioni dirette tra l'eccesso di consumo di carne e alcune malattie per esempio i cancro il colon retto malattie degenerative malattie cardiovascolari e questo è un primo aspetto c'è un secondo aspetto importantissimo che questi animali che vengono questi 92 miliardi di animali vengono allevati industrialmente in allevamenti intensivi dove decine di migliaia di questi animali in spazi ristrettissimi convivono e naturalmente prendono delle infezioni perché c'è questa promiscuità e quindi la larga maggior parte che ti devo dire la quota più alta di antibiotici prodotti nel mondo sono per uso veterinario e vengono dati a questi animali che succede? Che arrivano a noi e questi antibiotici l'abuso di questi antibiotici determina la proliferazione di organismi infettivi antibiotico resistenti al momento nel 2023 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono morte 700.000 persone per infezioni determinate da microbi antibiotico resistenti le proiezioni sono 10 milioni tra 15 anni questo è il secondo problema terzo problema l'abbiamo toccato con mano il covid la maggior parte delle epidemie delle malattie dell'ultimo secolo sono zoonosi cioè sono malattie determinate da microbi che sono passate dagli animali agli umani dalla famosa spagnola fino all'HIV alla viaria alla suina al covid eccetera eccetera e il rischio tutti gli epidemiologi del mondo dicono con chiarezza che il maggior rischio di nuove epidemie deriva dagli allevamenti intensivi che sono dei come dire dei laboratori perfetti per lo sviluppo di questo tipo di microbi qui mi fermo grazie Marco diciamo una disamina drammatica ma necessaria nel senso che noi abbiamo visto che appunto qui non si tratta ha nominato il covid mi ricordo durante il covid diciamo una per fortuna diatriba molto laterale tra chi era favorito ai vaccini chi era contro i vaccini qui il problema è strutturale da quello che ci ha raccontato Marco e da quello che ci ha raccontato prima Ian c'è un problema proprio di cambio di paradigma cioè Marco ha parlato di numeri cioè di un'osservazione di un dato reale non è che ha fatto proiezioni o ha fatto un comizio politico ci ha detto dei numeri che una serie di questioni legate alla nostra alimentazione determinano una serie di scelte che si fanno e queste scelte determinano le cose che ci ha raccontato quindi le due cose che loro hanno detto stanno assieme che cosa le tiene assieme quel concetto che avevo espresso all'inizio e cioè la cittadinanza attiva cioè questo accade a prescindere da noi noi però possiamo fare molto le nostre scelte possono determinare molte cose sull'acquisto della roba da mangiare sul cambio di un paradigma culturale come ha detto Marco capiterà a tutti se qualcuno di voi avesse la gentilezza di invitarmi a casa per esempio la domenica a Conversano non credo che mi farebbe mangiare pasta e fagioli che ne so mi farebbe una lasagna oppure se d'inverno mi farebbe un zuco con tre carni sicuramente cioè noi abbiamo una cultura legata per esempio all'ospitalità che va nella direzione del consumo di cose che diceva Marco quindi è un problema che non è un problema di essere a favore di essere contro è un problema di cambiare una mentalità ora proviamo a restare su questo registro da un altro punto di vista e quindi se Marco tu mi dai il microfono io passo questo a Francesca porti in casa che è come avevamo detto il direttore generale ah c'è un altro microfono ah va bene va bene intanto ve lo ridiamo dai che pure è una cosa bella questa facciamo un po' di balletti e diciamo provando a restare a cambiare registro ma restando su questo tema sul tema della sostenibilità allora l'acquadotto più pugliese per molti anni non so adesso non so la fotografia di oggi però una ci sono due questioni che mi vengono in mente collegate a questo tema il primo il dispendio di acqua cioè l'acqua che si sperpera perché si diceva l'acquadotto più lì è una grande macchina che perde molta acqua allora che c'entra con la sostenibilità con le cose che diceva Yanna all'inizio cioè noi passiamo da 3 miliardi a 10 miliardi ma l'acqua è sempre quella e quindi se l'acqua è sempre quella e noi continuiamo a perdere l'acqua questo è un problema quindi questa è la prima questione cioè sapere che cosa accade e se continua ad accadere che cosa state facendo e che cosa si può fare la seconda legata sempre a questa è da un punto di vista diciamo partendo da un presupposto che questa questione si può sistemare la state sistemando e sarà sistemata fra 3 anni tra 4 anni tra 5 anni da un punto di vista della sostenibilità sia da un punto di vista della cultura quindi di un cambio di paradigma culturale quindi di un'abitudine nostra a utilizzare l'acqua in un modo diverso e quindi tendenzialmente a risparmiarla non solo quando c'è la siccità ma proprio a risparmiarla ecco l'acqua voi lei come direttore generale si pone questo tema già da adesso oppure è troppo preoccupata a risolvere questioni altre rispetto alla questione grazie dell'invito e grazie delle domande interessanti entrambe perché permettono di capovolgere una percezione che si ha di Acquadotto Pugliese innanzitutto io partirei da una considerazione noi continuiamo a parlare di pianeta Terra forse dovremmo parlare di pianeta Oceano perché l'ha detto Ian prima in qualche modo l'ha ribadito Marco la terra è fatta di acqua in tante forme in tanti modi diversi l'esempio del cetriolo è calzante del nostro cervello ancora più calzante poi un'altra cosa in realtà aumenta la popolazione ma non è che l'acqua è la stessa l'acqua è di meno perché pur galleggiando sull'acqua l'acqua è meno buona è meno utilizzabile dalle persone l'esempio in Puglia la nostra falda noi galleggiamo sull'acqua la Puglia è un territorio carsico quindi il sottosuolo è ricchissimo di acqua storicamente l'unica fonte pugliese erano i pozzi perché la Puglia acqua non ne ha perciò nasce l'acqua d'autobugliese ma questi pozzi stanno diventando salati perché il sovrasfruttamento con parallelismo con il mangiare la carne ha fatto sì che la nostra falda sia oggetto di intrusione marina quindi non è che a parità di popolazione l'acqua è la stessa parità di popolazione l'acqua buona è meno e se continuiamo così sarà sempre meno Acquedotto dal 2009 quando ancora non era di moda parlare di rispettiamo l'acqua risparmiamo l'acqua ha avviato è chiaro che stiamo parlando di circa 23.000 chilometri di rete idrica quindi cominciamo anche con i numeri a focalizzare abbiamo cominciato una campagna sempre più intensa di recupero perdite risanamento delle reti ma risanare 23.000 chilometri ci vogliono tanta energia e tanti soldi che non ci sono c'è anche una coscienza che sta maturando la comunità europea il governo italiano è una coscienza diffusa che sta maturando perché come diceva Emily Dickinson l'acqua la insegna la sete la siccità la mancanza d'acqua in Italia è arrivata agli onori delle cronache quando ha colpito il Po in Nord allora si nomina il commissario straordinario per l'attuazione degli interventi contro la siccità finché la siccità è stato un problema del sud è un problema del sud non diventa una cosa attuale la moria delle vongole nel delta del Po nelle zone classiche di cultura delle vongole diventa un dramma il Veneto la Lombardia che si trovano a fare i conti uso l'acqua per produrre l'energia o la dole a bere le persone è stato uno shock culturale questo ha permesso di maturare una coscienza diversa l'Europa oggi si appresta così giunge la notizia o si apprestava spero che si appresti veramente oltre il Green Deal a promuovere il Blue Deal noi che l'acqua ce l'ha insegnata la sete da quando è nata la Bulia abbiamo cominciato a mettere mano al risparmio quindi al recupero delle perdite dal 2009 dal 2009 a oggi abbiamo recuperato risparmiato non prelevato dall'ambiente 80 milioni di metri cubi un invaso meridionale di medie dimensioni ne contiene 40 quindi come se noi in questi anni avessimo messo da parte come acquedotto pugliese due invasi ma sull'acqua c'è un uso concorrenziale dell'agricoltura di cui ancora oggi non ci preoccupiamo abbastanza se non efficientiamo le reti rigue noi perdiamo oggi circa il 42% dell'acqua è tanto ma ne perdevamo il 56 58 nel 2009 quindi abbiamo fatto passi da gigante e stiamo continuando ma l'agricoltura orgogliosamente ne perde tra il 70 e l'80% in tutta Italia parliamone se c'è concorrenza tra il comparto agricolo e il potabile la legge dello Stato italiano dice che in caso di crisi va salvaguardato il potabile non sempre questo avviene sugli invasi concorriamo con l'agricoltura è stato dolorosissimo quest'anno dire in Capitanata il 12 agosto non si preleva più acqua da Occhito il 24 agosto non si preleva più acqua dal Locone ma le grandi dighe sono in Basilicata è quella cultura del civil servant la attenzione civica al fatto che non è problema mio o il problema suo pugliese e lucano e campano e abruzzese è un tema generale è una coscienza che dobbiamo veramente ancora promuovere nasciamo a quadrotto pugliese nasce da un grande gesto di solidarietà Caposele era il paese dell'acqua era il paese dei mulini ad acqua ha scelto di dare buona parte della sua risorsa alla Puglia che l'acqua non aveva proviamo oggi ad andare a dire la stessa cosa succede una rivoluzione la tecnologia aiuta tantissimo la tecnologia ricordiamo chiede acqua consuma molta più acqua la produzione di un microchip che un intero allevamento di bovini allora anche la tecnologia la dobbiamo usare ma la dobbiamo usare bene noi abbiamo inaugurato pochi mesi fa una control room in termini sono sempre tutti ingresi una sala controllo che ci permette di ricevere segnali da tutta la rete quasi 23 mila di rete idrica quasi 16 mila di rete fognante 185 depuratori e le migliaia di impianti di sollevamento idrico fognario quindi le migliaia di oggetti di cui si compone l'acquadotto pugliese e ci permette di correlarli quindi fare un'analisi dei dati prendere le scelte giuste e decidere anche se sostituire una rete o piuttosto usare dei sensori che ci permettono di raggiungere con meno soldi e meno tempo lo stesso risultato di recupero di risorsa perché anche qui come per la carne e mangiare invece cibo completo vegetariano ma non in maniera così esasperata se noi non consideriamo che siamo a casa nostra al sesto piano e vogliamo l'acqua senza mettere l'autoclave noi continueremo ad alimentare le perdite perché la notte avremo sovrappressioni i tubi non possono essere lunghi migliaia di chilometri o centinaia di chilometri sono fatti tante giunture e da quelle giunture l'acqua esce perché un liquido è incomprimibile arriva fino a un certo punto poi da qualche parte deve uscire o rompe i tubi e vediamo i geyser per strada pure peccato oppure in maniera molto più silente trapela trapana dalle giunture in cui sono fatti i tubi per l'egoismo di averla a casa mia causa un danno alla collettività questa coscienza stiamo cercando di formare stiamo partendo con campagne di sensibilizzazione le abbiamo sempre fatte partendo dalle scuole le stiamo intensificando perché sappiamo bene che la coscienza civica si crea dall'asilo e così dobbiamo lavorare è la crisi idrica è una scusa il claim è rispettiamo l'acqua noi non siamo più abituati come non siamo abituati a rispettare il cibo lo spreco alimentare è un problema mondiale io sono cresciuta ossessionata dai poveri bambini del biafra che morivano di fame mentre io mi permettevo di non mangiare il piatto che me l'ha stato messo davanti abbiamo perso questa coscienza lo spreco alimentare è un tema importante così come lo spreco alimentare è un tema importante il rispetto dell'acqua è una cosa altrettanto importante e si declina in più forme se noi in Puglia abbiamo il mare più pulito d'Italia per il quarto anno consecutivo perché funziona il sistema depurazione ma anche il sistema depurazione funziona se noi rispettiamo l'acqua perché l'acqua pulita e l'acqua sporca sono sempre acqua e se continuiamo a buttare l'olio nello scarico del water se non rispettiamo le regole ma non solo stabilità delle leggi le regole del vivere civile comune rischiamo di tornare indietro e guardate che pulire l'acqua depurarla costa non è un fatto di bolletta è un fatto di costo ambientale gli antibiotici che si trovano nelle acque le direttive europee adesso stanno puntando decisamente all'origine gli antibiotici non ci devono essere chi li usa chi li produce deve contribuire alla depurazione perché per rimuovere quelli che si chiamano endocrine distruttor inquidanti emergenti le tecnologie di pulizia dell'acqua sono più costose più complesse consumano energia ed è il contrario dell'economia circolare quindi dobbiamo capire bene che alcune abitudini generali vanno cambiate perché altrimenti non solo quest'anno noi abbiamo consumato l'impronta ecologica noi siamo arrivati al punto di non ritorno del consumo delle risorse naturali a fine maggio l'umanità a fine maggio aveva consumato già quello che avrebbe dovuto consumare nel corso dell'anno l'acqua è la prima cosa che viene impattata da questo grazie grazie a francesca intanto dico a nome mio personale ovviamente che ci fa ben sperare anche sulla gestione della cosa pubblica perché diciamo lei gestì il direttore generale dell'acqua pugliese mi pare che abbia fatto un discorso illuminista insomma un discorso con uno spettro molto più ampio della sua dimensione che è quello che serve e mi rivolgo a Jan perché poi nel secondo giro faremo mi pare di capire una domanda collettiva a Jan per concludere il nostro incontro appuntati due temi che sono arrivati Jan l'acqua è un tema politico e l'altra questione che mi pare sia pure il filo conduttore tra Marco e Francesca il ruolo centrale della cittadinanza attiva cioè qualunque politica non si può esplicare se i comportamenti collettivi non incidono in un cambio di paradigma e aggiungiamo un ultimo tassello per sentire poi di nuovo Jan quello con Enzo Lavarra diciamo dal tuo duplice osservatorio Enzo sia quello evocato anche da Francesca l'Unione Europea adesso sta facendo le cose quindi della tua esperienza di parlamentare ma anche dall'attuale esperienza di Federparchi sia a livello europeo che a livello diciamo regionale puoi avere un quadro diciamo interessante perché Federparchi è diciamo un'associazione che mette insieme tutti i parchi italiani sappiamo benissimo che il sistema dei parchi italiani è un sistema importante rispetto alla risorsa principale che è quella dell'acqua ha la sua tutela la sua conservazione come rispetto a tante altre cose ecco la situazione secondo te da questo punto di vista qual è come incidono come il sistema nazionale dei parchi che è uno dei vanti italiani mi pare nel mondo dà un contributo e per quello che ti è stato possibile capire nella tua consigliatura all'Unione Europea secondo te se questa questione è centrale anche nelle discussioni del Parlamento Europeo intanto anch'io mi voglio associare a tutti voi ringraziando Ian per il libro che conto di leggere ma la sua sintesi è veramente molto illuminante e è occasione questa come il libro di Panara per aprire un dibattito molto ampio con l'opinione pubblica e direi con il decisore politico istituzionale su temi drammatici loro hanno già fatto riferimento che la civiltà umana in larga misura dipendente dall'attività agricola nasce 13.000 anni fa con la cosiddetta era geologica ecocene quando l'oscillazione dei cambiamenti climatici era meno uno più uno quindi c'era una stabilizzazione e dunque c'era un'autotutela della terra uno studioso un ricercatore del CNR ci dice che se noi non rispettiamo gli obiettivi fissati entro il 20-30 di sviluppo sostenibile il surriscaldamento aumenterà del 3% e se continua questa tendenza a fine secolo aumenterà del 5% loro non si avventurano in previsioni ma i scienziati definiscono questa questa prospettiva questo scenario riportare indietro l'orologio di 5 milioni di anni di 5 milioni di anni quindi non sappiamo quali capacità di adattamento la civiltà umana riuscirà a mettere in campo e se guardiamo solo all'oggi senza queste previsioni catastrofiche già è stato detto benissimo da Ian e da Panara noi abbiamo il 71% di terre coltivabili con 828 milioni che soffrono di fame cronica con 2 miliardi di persone a rischio di desertificazione e a breve con la previsione di 5 milioni di emigranti da queste da questi territori da queste aree geografiche per cui è pur vero che esiste un tema uno squilibrio fra cibo disponibile quantità di cibo e sprechi ma questo dobbiamo dirlo Marco vale per una parte del pianeta che possiamo identificare genericamente come occidente poi parlerò un attimo della Cina allora da cosa dipende questo surriscaldamento climatico è stato già detto l'aumento della popolazione ma specialmente l'inurbazione la creazione di metropoli che conducono alla deforestazione covid nasce esattamente da questo come gli scienziati hanno elaborato e pubblicato nasce dai trasporti nasce anche dal digitale è l'era tecnologica del digitale noi siamo nell'era della tecnica ma dobbiamo sapere che ogni come si dice click ha questo effetto ma io sono molto molto d'accordo con quello che diceva Marco e che riprendeva la direttrice di ACUP quanto pesa in termini di emissioni nocive il sistema industrializzato dell'agricoltura e quello degli allevamenti intensivi pesa tantissimo e qui dunque vale di riferirsi in modo veramente molto sintetico al fatto che contemporaneamente a questi effetti molto negativi il surriscaldamento climatico lo stiamo analizzando con l'istituto agronomico mediterraneo di Bari che è la sede italiana di 13 paesi della sponda nord e sud del mediterraneo questo surriscaldamento climatico insieme all'intensità degli scambi commerciali sta moltiplicando le specie aliene i patogeni da quarantena noi viviamo di dramma da 12-13 anni di Xilella ma si è affacciato in in Campania il pericolo della cosiddetta mosca orientale che colpisce la frutta è stata rinvenuta per la prima volta nel 2018 e nel 2022 si è rilevato un andamento crescente di questa presenza e questo veramente fa rabbrividire se pensiamo che cosa vorrà dire l'aumento del surriscaldamento soprattutto nel Mediterraneo di cui dice sempre il CNR l'Italia è l'hot spot cioè il principale crocevia di questi fenomeni Italia che consuma a proposito di agricoltura di produzione di cibo 17 ettari al giorno di suolo di suolo per le politiche che noi conosciamo che finora sono state vabbè è inutile dire l'alluvione i telegiornali le critiche le polemiche le rotture e poi nulla per manutenere il territorio devo dire che secondo le stime del CNR di Bari i maggiori i più alti tassi in Italia di certificazione riguardano la Sicilia ma anche la Puglia e noi abbiamo visto in Sicilia che cos'è accaduto chiudo sperando di essere stato breve Oscar la cittadinanza attiva devo dire siete stati bravissimi perché noi avevamo uno slot di un'ora in un'ora avete parlato grossomodo tutti lo stesso tempo quindi vai a concludere e io direi poi di Marco ruolo della cittadinanza attiva beh io ho avuto diciamo diverse vite diciamo nello spazio pubblico la penultima che ti prego di archiviare è quella dei parchi perché i cicli sono i cicli uno comincia una cosa e poi la termina e l'ultimissima è quella invece di stare al consiglio di amministrazione della fondazione che mi ha messo in un cantiere di idee di analisi e di confronti quindi questo è adesso il mio ruolo di cittadino attivo prevalentemente l'Europa è sotto attacco la politica verde dell'Europa è sotto attacco la maggioranza ecco la cittadinanza attiva scusatemi non è per buttarla in politica faziosa di parte è per dire della politica con la P maiuscola la maggioranza conservatrice del Parlamento che si va risistemando nella sua geografia e della commissione ha messo nel mirino il Green Deal di Timmermans il patto verde che diceva emissioni meno 33% entro il 2030 neutralità climatica entro il 2050 la nostra governatrice è andata l'altro giorno all'assemblea della Convintustria e ha detto che il nostro paese andrà contro il Green Deal per riconvertire se non ci fosse la presenza di un segmento del Green Deal in capo alla commissaria Ribera della Spagna che però si deve confrontare con un nemico con un negazionista noi potremmo dire il Green Deal è cancellato anche nella parte della revisione dei sussidi all'agricoltura dove la lobby degli allevatori è fortissima altro che cambiare la cultura del cibo questo lo può fare la coscienza progressiva la sensibilizzazione che noi dobbiamo operare ma se non cambia il modello di sviluppo il cittadino da solo non arriva a cambiare le cose non arriva a cambiare le cose e chiudo perché mi piace che lui sia qui presente e che in una delle vite proprio quella al Parlamento europeo io ho incontrato circa 15 20 anni fa non è vero che non esiste un modello alternativo di produzione qui c'è Vincenzo Netti che nella sua azienda ha fatto agricoltura sostenibile agricoltura sostenibile lui ha prodotto dagli scarti dell'agricoltura e con la combinazione la potatura eccetera ma anche con la combinazione di questi scarti con le bucce di arance il metano per alimentare i mezzi che lui usa per attivare l'agricoltura ecco con questi esempi chiudo però ripeto se non si contrasta ovunque anche a partire dalla regione Puglia anche a partire che fa parte del comitato delle regioni a Bruxelles che fa parte della conferenza delle regioni in Italia se non si contrastano queste tendenze che saranno sempre più violente e che negano gli effetti disastrosi del cambiamento climatico salvo poi andare con gli stivaloni di gomma nelle zone alluvionate per uno spot televisivo grazie a Enzo e allora anche se andremo sforeremo un po' ma proviamo a restare nei tempi io vorrei far concludere a Jan tenendo mettendo insieme tre questioni parlava adesso Enzo Lavarra ha introdotto un altro tema che ovviamente sottintendendeva sia all'intervento di Francesca che suppongo a quello di Marco che deve cambiare il modello di sviluppo è evidente che deve cambiare il modello di sviluppo però io ti chiederei di tenere insieme e poi chiederei a Marco se vuole integrare la domanda quindi cambio del modello di sviluppo l'acqua come tema politico e adesso abbiamo sentito quello che diceva Enzo Lavarra quello che sta succedendo nella comunità europea e ruolo della cittadinanza attiva Marco non so se voleva aggiungere ti passo il microfono no c'è un concetto che è stato toccato sia da Jan che da Francesca che è una cosa fantastica cioè la quantità di acqua nel pianeta è sempre la stessa quello che cambia e devo dire e nel libro di Jan ci si sta a questa parte molta vita delle comunità e civiltà si è sviluppata nella necessità di mettersi insieme per gestire l'acqua perché l'acqua c'è ma dove ti serve e quando ti serve ce la devi portare e l'acqua di Ottobugliese fa questo il dramma di adesso che Francesca accennava è che per esempio la salinizazione delle falde cioè stanno succedendo dei fenomeni per cui abbiamo meno molto meno che nei decenni e nei secoli precedenti l'acqua che ci serve quando ci serve quindi volevo chiedere a Jan e questa è politica questa è politica cioè per avere l'acqua dove ci serve e quando ci serve ci vogliono delle scelte politiche cioè i cittadini devono essere intelligenti quando votano e devono esercitare la loro attenzione di cittadinanza però la scelta è politica perché è politica quella di fare le infrastrutture giuste nel posto giusto perché l'acqua che è caduta in Emilia Romagna non serviva ha fatto danni l'acqua che è mancata in Sicilia è mancata e ha fatto danni se avessimo avuto l'acqua dell'Emilia Romagna in Sicilia nel momento in cui serviva sarebbe stato fantastico invece abbiamo sempre più spesso nel modo sbagliato e nel tempo sbagliato ecco volevo così un accenno una riflessione su questo aspetto della politica use of sorghum millets which used to be the main part of the diets and those kind of food items they were much more water saving you could produce sorghum and millet in conditions where there were lack of, there was scarcity of water and it was more nutritious in many ways but now and then when they introduced the green revolution, the rice varieties, they narrowed down the number of food items that the people got used to, secondly they abandoned the coarse food, the sorghum and the millet food, my colleagues, my old colleagues in India, they grow up on those kind of food dumps which was nutritious and easy to grow, they don't the young generation, they don't like the traditional food food, both the poor people as well as the rich and together with the introduction of rice they also introduced subsidies for energy to pump ground water so in parts of India, you know, they have not enough of surface water to grow paddy so they brought in huge amount of subsidies for the farmers to to buy pump sets and they're pumping water from deeper and deeper deeper levels and now the government but also the UN agency the World Bank they are trying to reintroduce the the coarse food items sorghum mills but it's very very difficult because people have got aspirational food has become the norm of the day the white rice so that is that is a big issue I think that once people get used to these kind of modern of fashionable of aspirational food it is very difficult it takes time to switch back we had an interesting discussion in Stockholm a couple of weeks ago during the World Water Week and we had this discussion coming up how can we change for instance food habit how can we change water use habits and then I think there was one comment which I fully agree with they say that it takes a lot of time to change the mindset the perceptions of people what people believe in what people think are the good the good life but so we have to go via the political system via the social change agents taxes incentives different types of those kinds I think those are probably have been combined with educational efforts but even if people are aware of different the nutritional value of food they do not necessarily change so I think that it must be a combination of social pressure of incentives different types of role models so to speak secondly Francesca you mentioned something which I fully agree you said that we should call not planet earth but planet water that's right I fully agree in the book I have written about that in the story of creation in Mesopotamia they talk about mother no they talk about father water which I think so I used to say that we can talk about mother earth but we should also talk about father water and you need both the father and the mother for the good offsprings so we have to combine the water and the different types of water in our thinking I think and also the water and the land and I think that this also touches upon a very interesting discussion which is going on among other things in Emilia Romagna they say that instead of having a more paying all attention to reservoirs to fixing the leaks of pipes I don't think that's so important because the leaked water will go down it will recharge the aquifer so but there is of course an energy issue also involved if you pump too much water you also use energy but I think that what they're talking about in both in Emilia Romagna and I think the farmers organizations in Italy and it's talked a lot about in Africa and Asia that we have to make better use of the rainfall so in Sweden I'm one of my colleagues we used to talk about the blue water that's the water that is blue on the map that's the water in the rivers and in the lakes and in reservoirs that's the blue water and then we say there's another water which is very important that is the green water and the green water is the soil moisture and the green water is what makes the landscape green so then we say now that it is very important you have a land use a kind of strategy where you try to harvest as much as possible of the rainfall and get it infiltrate into the ground and to build up the soil quality in such a manner that the soil will be able to retain a larger proportion of the rain because in many parts of the world we have what you talked to us about the use of chemical fertilizers and all those kind of things it has impoverished the soil structure in many ways so the water holding capacity of the soil in many parts of the world is being reduced so I think that we have to combine land use land management soil management with water management and that to make best possible use of the local rain yes the political issue it's a huge of course I used to quote the former commissioner of the European Commission Mr. Jean-Claude Juncker you probably know his comment about he said he said once that we perfect we politicians we perfectly know what to do but we do not know what to how to do to get re-elected so there is of course an interplay between the political system and the consumers and the public and for instance in Sweden I think we have a situation now where people we have huge subsidies on food different ways but people do not want to listen to those kind of arguments so they they are very keen on having cheaper and cheaper food although they waste a lot of the food so I think that the political system is a combination is a kind of interplay between the consumers the public and our awareness and our willingness to change because well it's not easy to change the human behavior I think thank you is a good to have a good time to